ZAM ZAM Col capitano Mi tirò una chiappa prima di là, poi di là che non mi riesce a salire Come fa? C'è talmente tanta sogna, il cioccolato due minuti in bocca e trent'anni nel culo Sì Allora quindi si sta spiegando, se il mare diventasse per dieci minuti No Allora dicevo, il mare diventa per dieci minuti il suolo Sì che sta filmando, sì che filma, che penso faccio sì Eh lo tengo, sei all'orecchio Sì, muoio, che intanto farlo No basta, dai No, non fare il kawaii No, è tutta colpa del sistema Che sirenette Cantate Ariel Arriccio spiccia La fornello, il bovino e il c Sì, ma com'era? No, era Eccola No, 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 aspetta Queste qua Ma che cazzo fa? Allora aspetta ci sono Entertainer Prar Poi Prar E infine No, sono tutti fratelle e sorelle, fiore No 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 Fratelli Tenorine Che glielo dà, sono tutti i pelli Hanno divorziato oggi E lui è frocio Sì, qualche problema? Ma perché danno venire a vendersi le rose? Siamo fratello e sorelle? Sì Vadoci qua Dentro la bocca Poi con questi Con gli La mia Cambia in una mazza La mia mazza da cazza E tira Vadoci 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 ma che fai? Tira si Sembri Predator Dotta Sì Vadoci 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 Se vuoi fare anche a me Com'è che si fa? Allora Non Vadoci Sì Il prima il dopo Vadoci Vadoci Prima E il dopo E il dopo E il dopo Sì Sì Yes I am I My name is Peter And this is your first English lesson easy to do, listen to me, and repeat all the my name is Peter and I'm a boy my name is Lucy, guardate la faccia del mozzo the table is on the desk the pen is on the desk table e tavolo, desk e il tavolino della scuola da scuola, da scuola, da scuola di mucce lo scoglione, oddio ok facciamo i dialoghi axel says hello my name is is axel, I like froci capitano invece cosa dice? what's your name? virgola, are you gay? virgola, no no, ok, I'm not interested in you hi, my name is kari I like the kawaiii l'altro risponde, fucking noo yeah, I'm so cute I'm so cute a fucking capico come dire, vai in fucking you motherfuck you motherfuck you motherfuck you motherfuck nigga dai fa la fita fatele yuri sono calmissima c'è schifo aprite le gambe io si le apro ok ecco c'è il filiale ho sbagliato cosa fa ho sbagliato le scarpe che vanno a popolarci con questo l'idea non no 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 che che è stavamo bene siamo a quattro minuti e venticinque una 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 sigaretta a me mi importa una cazza perchè c'ho la memory card da 512 mb yes 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 cv scogliamo la ciorba della si guarda lì il culo metti che hanno vinto no se non sa come si fa ma si fa no ma ce l'ho mostrato lei no mi vergogno come in salotto mi vergogno si va bene dai ma fa fa anche ah che no no mi fate morire di crepacuore via metterò in posizione da camera no no devi vedere prima lo devo fare tipo la no no devi fermarmi prima fa così salve lei eh capicampia casa ah e dove si trova in questo momento al 90 sono ah 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 faccio il verso di Rihanna a mano ci faccio il verso di Rihanna ah 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 fa anche i verso di Rihanna Aspetta, pausa. E sì che è continuo. Allora ci racconti qualche storia. Voi siete? Ok, quindi inquadriamo poi i gradi della ciurma. Allora, primo membro, cartografo, pulisci i cesti, non ci sta, insomma ha fatto tutto di più, è il jolly della ciurma. Ma ti pare che può fare le carte a lei e non sa manco che forma intera ha? Ok, capitano o sarà... è furillo. Non sa la geografia? È un mozzo Hayri. Sìììììì. E pulisci... no, c'è che pureva il fondo? No, lei, lei. No! E quello sta filmando all'intercene. E quello è il bucone di ciurma. Saluta. Ok, è un giulolare ciurma. Dunque siamo qui riuniti per... Non lo dire ti può spessare, non l'ımızı conquistare e ti può la squadra in merda. Viva Fabri Fibra e ni... Appinstantastici. Siamo Won necessario. che ho detto viva Iniga e sicché viva Del Piero che sei il padre dei miei figli e viva la Svezia quadriamo gli scogli e dire basta perché 7 minuti siete tre pupa bestia